ciao a tutti vi presento junior lui vuole fare batterista e per cui io lo lascio andare sempre su youtube a guardare i video di tanti bravissimi batteristi ci sono anche tanti docenti che insegna con autorevolezza chi lo fa con umorismo simpatia ti diverti il problema è che poi lui viene da me e mi dice che ha delle perplessità non capisce ma non non capisce perché è stupido sta facendo fatica perché i batteristi tendono a mettere un piccolo particolare qual è il metodo di apprendimento per imparare un esercizio o per suonare come loro non è sufficiente infatti continuare a guardare video e cercare di copiare quello che un altro fa ognuno di noi è fatto in maniera diversa a un diverso modo di apprendere le informazioni non è possibile riprodurre sempre quello che riusciamo a vedere e soprattutto è difficile avere una visione chiara di quello che è l'apprendimento di uno strumento e si rischia di incappare in un sacco di esercizi completamente inutili oppure di avere le informazioni fondamentali sommerse e non capire esattamente da dove cominciare tanti pensano di essere già capaci di fare le cose di non aver bisogno di un metodo di questo consiglio altri non affrontano neanche la questione perché pensano di non essere assolutamente in grado di poter suonare uno strumento io vi posso garantire che con una giusta guida ognuno di voi sarà in grado di realizzare la sua passione non c'è un limite all'età non c'è un limite a quello che può essere disponibilità anche economica della serie io non ho lo spazio dove mettere la batteria non ho neanche i soldi per comprare la batteria pertanto cercherò di personalizzare di dare tutti i vari punti di vista per riuscire ad apprendere quello che sono le basi della batteria e spingerci anche oltre ma soprattutto imparerete la chiave imparerete un metodo per riuscire a raggiungere il vostro obiettivo sono convinto di quello che dico perché sono riuscito in anni di insegnamento oramai sono quasi 20 a trasmettere queste informazioni a centinaia di allievi con successo pertanto per loro è davvero cambiata la prospettiva la visione di quello che è lo studio dello strumento e io vorrei fare lo stesso con più persone possibili perché questa cosa è sicuramente un messaggio positivo suonare uno strumento è sicuramente una cosa estremamente positiva che dà un sacco di gioia vero junior non voglio annoiarvi con questa presentazione era solo per dirvi che qui troverete un canale diverso un sistema per riuscire veramente a concretizzare quello che sono tutti gli insegnamenti che trovate su internet quindi ci rivedremo qui ciao a tutti da junior da andrea vi auguriamo una buona giornata dai junior saluta dai non fare il timido dove vai quindi serve sono abbastanza intelligente da sapere che è meglio non rispondere a queste siri che ma non ti abbiamo chiesto niente vabbè allora diceva ciao 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 ciao